La posizione dell'interno della Xilella, noi sin dall'inizio abbiamo innanzitutto fatto proposte concrete, ossia quelle di agire subito attraverso le buone pratiche agricole e poi è sicuramente un argomento scientificamente complesso dove secondo noi in prima battuta devono parlare gli esperti, ossia i fitopatologi e ora attendiamo ulteriori decisioni della comunità europea e anche dell'associazione di categoria visto che purtroppo manca anche una certa continuità narrativa soprattutto da parte della stampa e quindi non se ne parla più di Xilella.